Il processo di affermazione nel panorama assicurativo del meridione d'Italia dell'Agenzia Si Greco Unipol di Polla, nata e cresciuta grazie alla caparbietà e alle intuizioni di Angelo Greco prosegue con i suoi figli Antonio e Sebastiano che nella serata di ieri sono stati premiati per gli ottimi risultati raggiunti dall'Agenzia e Antonio Greco come Family Welfare Specialist di Agenzia Nella meravigliosa e successiva cornice che offre l'isola di Ischia Antonio e Sebastiano Greco sono stati ospiti di Unipol Sai per il contest del distretto sud all'hotel Miramare Castello in cui sono state premiate le agenzie che hanno ottenuto i migliori risultati nel primo quadrimestre del 2022 dimostrando grande capacità di supportare e venire incontro alle esigenze dei clienti e riuscendo ad indirizzarli verso i pacchetti assicurativi adeguati alle necessità Su oltre 500 agenzie presenti nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia Assi Greco con Antonio Greco si è classificata al primo posto per l'area Campania per gli ottimi risultati conseguiti Un successo che i due giovani figli di Angelo Greco dedicano al padre che li ha avviati verso questo percorso abituandoli ad ottenere sempre il meglio cercando di soddisfare le esigenze dei clienti Oggi, afferma l'agente generale Sebastiano Greco, festeggiamo un successo importante raggiunto grazie all'ottimo lavoro dell'agenzia Un riconoscimento per Antonio Greco, Family Welfare Specialist di agenzia con il quale abbiamo portato avanti sin dai primi giorni del nuovo anno un programma intenso di riunioni e di incontri con tutti i collaboratori Dedichiamo questo successo raggiunto, sottolinea, al nostro padre Angelo che da sempre ci ha insegnato che il duro lavoro, il sacrificio, la resilienza e la determinazione ripagano sempre Ringraziamenti inoltre Sebastiano Greco li rivolge alla direzione del Distretto Sud ed in particolare alla dottoressa Silveria Papaccio, responsabile di Distretto Sud al dottor Ciro Rizzo, vice direttore di Distretto Sud al dottor Raffaele Enrico, responsabile del coordinamento commerciale Unipolsai al capo area dottor Carmine Laforgia al responsabile commerciale di agenzia il dottor Fabio Pisapia ed in special modo al dottor Attilio Barone responsabile di direzione per il segmento Welfare e Previdenza che, dichiara il responsabile di Assi Greco ci ha spronato e supportato con la sua presenza costante durante le riunioni operative svolte nella sala riunioni della sede di Polla Per Sebastiano Greco la sensibilità dei clienti verso l'aspetto previdenziale delle soluzioni assicurative distribuite dalla compagnia che rappresentano sono sempre più centrali Il nostro compito, conclude, è quello di dover raffornire le soluzioni più adeguate ai clienti che permettano loro di vivere con tranquillità la quotidianità sapendo di poter contare su soluzioni assicurative di primaria importanza che garantiscano un sostegno economico e diretto in caso di grave malattia o infortunio